Buongiorno a Presidente della provincia Renzo di Sabatino, benvenuto Presidente, che tra un impegno dell'altro è in campagna elettorale perché si va a rinnovo del Consiglio Provinciale. Domenica 8, in questo frattempo, non so, si parla tanto delle province, della riforma del ruolo delle province, però i consigli provinciali ci sono, c'è un Presidente della provincia, va rinnovato il Consiglio. Renzo di Sabatino è a metà del suo mandato, lo ricordiamo, è stato eletto nelle elezioni di secondo livello, adesso vedremo anche di che cosa si tratta, nell'ottobre del 2014 siamo a metà del mandato, due in carica, quattro anni, però ogni due anni, secondo la legge del Rio che ha portato alla riforma delle province, anche questa vedremo che fine farà, il Consiglio va rinnovato ogni due anni. E domenica la provincia di Teramo va al voto, va al voto con tre liste, 575 elettori, richiamiamola così, è la forza elettorale che verrà chiamata a scegliere i 12 consiglieri provinciali da affidare al Presidente di Sabatino per il nuovo governo della provincia. È un'elezione di secondo livello, spieghiamolo, i 575 del corpo elettorale sono tutti amministratori. Io li chiamo grandi elettori, nel senso che è di secondo livello perché non votano tutti, votano però sindaci e consiglieri comunali che a loro volta sono stati eletti tutti dai cittadini, con sistemi per quanto riguarda i consiglieri anche delle preferenze, quindi rappresentano sicuramente la base elettorale di questa provincia. Sono 575, un comune non va al voto perché è commissariato ed è tortoreto, ma tutti gli altri 46 comuni domenica si esprimeranno. Io mi sono permesso di dire che in questo caso è un diritto, ma è anche un dovere andare a votare proprio perché sono portatori di una rappresentanza che è dei cittadini. Poi naturalmente il referendum ha deciso che le province restano in Costituzione, per cui è evidente che su questa materia il legislatore ci dovrà sicuramente tornare, anche perché la del Rio in alcuni passaggi parlava proprio in attesa della riforma costituzionale. E quindi vedremo che fine farà comunque anche questo assetto della provincia. Intanto però si vota, lei arriva a due anni di mandato con un'esperienza, ricordiamo che ci sono 25 candidati in corsa di tre liste, c'è la lista del centro-destro che è la numero 1 che si chiama La Forza del Territorio per la provincia di Teramo, c'è la lista numero 2 Direzione Futuro e poi la lista numero 3 La Casa dei Comuni, queste ultime due sono l'espressione del centro-sinistra. Qual è la sua esperienza di questo Consiglio provinciale nei primi due anni, almeno quello che lei adesso porta al rinnovo del voto? Guardi, c'è stato un vulnus relativo al fatto che pur rimanendo in Costituzione il metodo di voto non era insomma popolare. Però devo dire che il mandare a fare consiglieri provinciali, consiglieri comunali che hanno già un'esperienza comporta due dati positivi. Il primo è che c'è una maggiore capacità di conoscenza della macchina amministrativa e oggi sicuramente questo è molto importante per chi vuole amministrare la politica senza un minimo di tecnè non funziona più. E la seconda è che, di questo vado molto orgoglioso, noi non ci siamo, neanche con i consiglieri che hanno deciso di non collaborare, non abbiamo mai perso un minuto per discutere di questioni che non fossero di interesse dei cittadini. Cioè i piccoli teatrini della politica, le piccole diatribe, non hanno albergato in questi due anni, che per me sono stati molto positivi e sono stati sicuramente produttivi. Ho sempre detto che gli enti si salvano, tra virgolette, soltanto se dimostrano di essere utili, altrimenti no. La riforma del Rio disegna per la provincia un ente diverso dal passato, di coordinamento del territorio, secondo me non è una cattiva riforma, sicuramente va migliorata e va ampliata, però ha funzionato nella misura in cui la provincia ha cominciato a fare quello che era nell'idea del legislatore, quindi essere un organismo intermedio tra i comuni e gli enti sovraordinati. Adesso secondo me andrà rinforzata, se si vuole davvero tagliare gli sprechi, si può partire togliendo tutti quegli consorsi, quegli ambiti, quegli enti che hanno un ambito provinciale e mettere queste funzioni all'interno delle province, visto che, ripeto, il popolo italiano tra le altre cose ha deciso anche che la provincia resta in Costituzione. Ed è importante, non per l'ente, è importante perché rimane un'identità territoriale, un perimetro territoriale, un territorio più vasto della semplice città di Teramo, che si chiama provincia di Teramo. Insomma, questi primi due anni hanno fatto comunque capire e consolidare l'idea che, come si diceva all'inizio, dobbiamo riformare questo passaggio intermedio dell'organizzazione statale, addirittura si parlava di scomparsa delle province. Questo, anche al dato di fatto, non è possibile perché si è visto che comunque se si separano le competenze in maniera netta e abbastanza delineata, sicuramente la provincia non può rinunciare ad un ruolo importante anche della gestione del territorio. Ma si è visto in questi due anni, c'è stata una cosa molto singolare. In questi due anni noi avremmo dovuto, soltanto, perché era demandato anche alle singole regioni, fare insieme alla regione una legge di riordino, far passare le funzioni, trasferire il personale, punto, questo si doveva fare. Dopodiché, in questi due anni, naturalmente, la gente chiedeva la sistemazione delle strade, chiedeva la sicurezza nelle scuole, chiedeva un maggiore controllo del territorio in materia ambientale, quindi chiedeva tutta una serie di funzioni che comunque la provincia aveva e dà, rispetto alle quali io ritengo che noi abbiamo fatto quanto possibile e in molti casi anche di più. Questo adesso va, diciamo, secondo me, implementato. Certo, la situazione nazionale è tale che non è semplice, diciamo, rimetterci oggi le mani, però io confido che se un'opera di riorganizzazione e anche di contenimento della spesa debba essere fatta, che vada fatta veramente perché non è possibile. Faccio un esempio. La nuova provincia ha come organo l'Assemblea dei Sindaci, che io convoco per i bilanci, per i rendiconti. Dopodiché noi abbiamo degli ambiti dell'acqua in cui uno degli organi è l'Assi, l'Assi altro non è che l'Assemblea dei Sindaci, uguale. Poi abbiamo un ente che si dovrebbe occupare dei rifiuti da due anni, ma non se ne occupa a livello regionale, che si chiama Ersi, e poi ci sono dei subambiti provinciali al cui interno anche lì, diciamo, è prevista un'Assemblea dei Sindaci. Quindi vediamo che sono dei doppioni. C'è un ente che è di rango costituzionale e ficchiamo lì queste competenze. Da punto di vista quindi della razionalizzazione importante appunto del chi fa cosa, anche a livello di gerarchie. Questa elezione, tornando invece all'aspetto politico, cosa può significare anche come banco di prova della tenuta di coalizioni, non so, forse contrapposte? Il centrosinistra in particolare in questa elezione si presenta con due liste. Guardi, c'è un dato che io da dirigente del Partito Democratico ho analizzato, ma non mi stupisce. Il primo è che questa è stata l'occasione del centrodestra per ricompattarsi. Perché nella lista di centrodestra ci sono esponenti che sono vicini a Forza Italia, a Futuro In di Paolo Gatti, a Paolo Tancredi. E anche qui c'è una posizione abbastanza singolare, nel senso che l'onorevole Tancredi sta su più campi, perché a Teramo sta con il centrodestra, al governo nazionale con il centrosinistra, è la regione, non si capisce ancora bene. Bisogna ancora decidere. Ancora decidere dove sta. E poi c'è, che riguarda però Teramo città, l'ingresso di quella componente più centrista, che per molto tempo è stata molto critica. E quella di Dodo di Sabatino. Quindi c'è un centrodestra ricompattato e esprime ancora una forza a livello territoriale, è considerevole, soprattutto qui a Teramo. A Teramo da 5-10 anni il centrodestra Teramano è sicuramente il più forte a livello regionale. Manca una componente del centrodestra Teramano che tra l'altro attraverso la lista civica è uscito ai margini dell'amministrazione, pur non presentato l'opposizione, che è quella rappresentata da Mauro Di Dalmazio. Che tra l'altro esprimeva uno degli amministratori che era impredicato di costituire una lista per questa elezione provinciale, poi non è riuscito a trovare il quorum di firme per presentarla, che è Ciappanna e che tra l'altro ha lavorato molto bene nella sua amministrazione. Il consigliere Ciappanna ha lavorato benissimo, si è occupato di edilizia scolastica, grazie a lui abbiamo recuperato molto del tempo perso in passato. Mi spiace non averlo per le sue capacità di amministratori. Da un punto di vista politico, registro dall'esterno che lì c'è una componente che da tempo si è staccata dalla maggioranza a Teramo per un giudizio critico sull'attività, sulla gestione e questo giudizio critico l'ha mantenuto in maniera molto coerente, a differenza di altri, ma non stupisce perché sapevo che questa esperienza sarebbe continuata perlomeno fino ai prossimi appuntamenti elettorali. E questo centrodestra, invece per parlare di casa vostra, nel centrosinistra, due liste che concorrono per eleggere una parte dei 12 consiglieri? Sì, io non ho fatto mistero che avrei gradito una sola lista, perché due liste non comportano grandi benefici in materia di elezioni e soprattutto rischiano di creare un po' di confusione. Ho sempre cercato di preservare l'attività della provincia dalle schermaglie che anche all'interno dei partiti politici ci sono, compreso il Partito Democratico. Ci sono due liste, benvengano, ma insomma voglio dire, alla fine quello che conta è che si lavori tutti insieme e soprattutto si lavora in un'ottica che affida al Presidente grandi poteri, sul mio malgrado. Su questo. A proposito di politica del territorio, su cui la provincia ha espresso alcune situazioni, si è dovuto per fronte ad alcune le materie importanti che tra l'altro sono state aggravate anche dal contesto ambientale generale e relativo anche al terremoto in questo periodo. Voi avete lavorato soprattutto molto sul fronte delle scuole che vi ha impegnato per quanto riguarda il SISBA, perché poi la viabilità ha un riflesso importante, ma in questo momento probabilmente secondario, che si aspetta di Sabatino dal 2017 e dal decreto soprattutto per cercare di approfittare, diciamo così, per dare una sistemata a quello che è tutto il patrimonio edilizio scolastico della provincia? Io mi aspetto intanto dal legislatore nazionale, dal governo nazionale, che si dia la possibilità a questi enti di garantire prima ancora che servizi la sicurezza, la sicurezza nelle scuole, negli edifici pubblici e la sicurezza nelle strade. Perché io leggo, vado anche io sui social, vedo le critiche contro la provincia perché non si stema questo, non si stema altro. Dopodiché le accetto perché tutto può essere fatto meglio, dopodiché bisogna che al di là di quello che devono fare gli enti, bisogna che quando si affida un compito, una funzione, bisogna dare le risorse sufficienti, non di più, ma neanche di meno. Quindi io mi aspetto che ci siano delle risorse a disposizione per garantire la sicurezza all'interno degli edifici e anche sulle strade. Noi per due anni non è che abbiamo dato priorità alle strade, ma abbiamo dovuto affrontare tre alluvioni, 2011, 2013 e 2015, che hanno martoriato le strade provinciali, in molti casi enti danneggiati, perché è vero che non c'è stata manutenzione, che si può fare meglio, ma è anche vero che spesso vengono giù i versanti, non le strade. Adesso, ovviamente, anche causa del terremoto, non che prima non ci si stesse attenti, però anche causa del terremoto la priorità sicuramente è diventata quella della sicurezza all'interno degli edifici, da questo punto di vista, nel momento in cui io ho avuto a disposizione delle somme per mettere in campo un piano di risanamento degli edifici pubblici e delle scuole, lo stiamo attuando. Ma è chimera pensare che si possano realizzare, approfittando di questo, purtroppo, stato di calamità, tutto il patrimonio di edilizio e mettere in sicurezza il patrimonio scolastico della provincia? No, questo è un paese che passa da un eccesso a un altro, in tutto. Noi dobbiamo evitare adesso che gli edifici collassino e quindi noi dobbiamo evitare che in caso di nuovo sisma o altra calamità ci siano morti, questa è la priorità rispetto all'esistente. Poi è chiaro che con un programma e un piano ben definito per parecchi anni tu arrivi a un adeguamento complessivo che preservi anche la struttura, ma quello che conta in questo momento è essenzialmente questo e su questo dobbiamo lavorare. Il decreto sul terremoto ci darà la possibilità di riparare il danno e eseguire miglioramenti sismici. Poi adesso verificheremo, perché abbiamo la fortuna di avere un commissario che ha grandi capacità per la nostra esperienza di Presidente di Regione e quindi di amministratore sul territorio, di vedere laddove andremo a intervenire, se sarà necessario intervenire sull'esistente, sul nuovo e soprattutto l'intervento che si farà a che grado di sicurezza porterà, perché questo è il punto. Cioè se io ho una scuola che non ha un grado di sicurezza accettabile è inutile che prenda poche somme per riparare il danno mantenendo un grado di sicurezza non soddisfacente. Questa è la vera partita. Ma è utopia ragionare anche il livello di edifici, di proprietà della provincia, in tutta la provincia del terremoto, in particolare anche nel capoluogo di polo scolastico, come si sta facendo anche per quanto riguarda le scuole comunali? No, a volte si pensa che gli amministratori non abbiano le idee, non è così. Poi le idee le devi calare con quello che hai. Io su Teramo penso, e l'ho detto più volte, che gli edifici scolastici, quelli che noi abbiamo nei limiti del possibile, debbano rimanere in centro storico. Allora, noi abbiamo tre poli. Uno che sta lì dove c'è l'Alessandrini, il Marino e l'Einstein. Uno che sta verso la Cona con il Di Poppa, il Forti e il Pascal. E sono due poli, diciamo, tecnici, professionali, commerciali su cui si può lavorare. E poi abbiamo, diciamo, anche quelli umanistici, e sono il classico, l'ex magistrale, l'umanistico, il linguistico, abbiamo l'artistico, abbiamo l'artistico, poi c'è un ragionamento sull'ex comi che stiamo facendo. Ecco, quelli dovrebbero rimanere in centro storico con un ragionamento diverso. Cioè, in realtà, voi dei poli scolastici lo avete già praticamente quasi naturalmente Sì, dobbiamo metterli in sicurezza. Sul centro storico la mia idea è di mettere in sicurezza il delfico ad un grado di sicurezza che vada oltre l'80%, ovviamente, e provare a pensare se magari recuperando quell'istituto che sta sempre su Piazza Dante, che non è di proprietà della provincia, ma delle IPA, provare a vedere se all'interno di quella stupenda piazza si possa creare un polo scolastico, un polo scolastico, un reggito Margherita. Esatto. Che collegherebbe con via Carducci, diciamo, Piazza Dante al Corso, magari pedonalizzando quella zona. Questo ovviamente è un'idea che poi deve essere portata avanti in sinergia anche con il comune. È un'idea che richiede anche delle risorse. Però si potrebbe acquistare in Regina Margherita, si potrebbe fare un ragionamento lì e avremmo una delle più belle piazze, anche se adesso ci sono le auto di Teramo, che allargherebbe il centro storico, che allargherebbe la capacità, diciamo, attrattiva di Teramo. Quindi è un'idea che va anche oltre la scuola, ma va proprio un'idea di ricostruzione di un tessuto urbanistico di questa città. Ripeto, è un'idea di uno che guarda le cose per quello che sono. Mi sembra che faremmo una gran cosa, se ci riuscissimo. Ma su questo la provincia ha la possibilità di incidere in una scelta del genere? Io ho parlato con il sindaco di Teramo, mi è piaciuta la sua idea di dire ci dobbiamo sedere, che è stata sua. Ci dobbiamo sedere per vedere, insomma, di ragionare insieme sulle scuole. Io ho questa idea. Poi se sarà fattibile, ripeto, ci vorrà tempo, lavoro e soprattutto risorse, sinergia. Però, insomma... È più fattibile del pensare soltanto. Abbiamo accennato le calamità naturali che hanno devastato un po' il territorio provinciale o meno. Siamo alla vigilia di una prevista ondata di maltempo. C'è sempre preoccupazione perché poi, quando arrivano i danni, i danni li fanno. Siamo pronti con il piano neve, visto che la quota delle precipitazioni nevose si abbassa sensibilmente tra domani e dopodomani. Sì. Noi abbiamo un piano neve. Questo piano neve ci costa 315 mila euro. 115 mila vengono dalla regione e 200 mila da fondi nostri. Funziona in questo modo. Noi dividiamo il territorio in nuclei, a volte quattro, a volte tre, e abbiamo dei mezzi nostri. Naturalmente con i mezzi nostri e con i nostri operai non riusciamo a coprire 1600 chilometri di strade. Per cui abbiamo ulteriormente diviso il territorio in 23 zone. Queste 23 zone sono affidate a 23 ditte esterne. Sono zone in cui noi non andiamo, copriamo altro. Se in un comune quella zona è coperta dall'impresa esterna, noi non andiamo. Andiamo in altri posti. Abbiamo sei trattori, spalaneve, quindi insomma non... E ci sono altri 23. In più c'è la possibilità all'occorrenza di implementare ulteriormente con altre ditte di pronto intervento. Noi quando arriva il maltempo chiamiamo, il nostro centro operativo chiama le ditte esterne e le fa uscire. Lavorano a chiamata e vengono pagati ad ore. Quindi copriamo completamente il territorio tra personale interno e ditte esterne. In più abbiamo acquistato 18 autotreni di sale. Ogni autotreno credo che siano sui 300 quintali. Il conto non lo so fare bene, però credo per una spesa di circa 45-50 mila euro. Quindi abbiamo anche quello. Quello che io ho chiesto agli uffici è di intervenire rapidamente e in modo organizzato e organico. Abbiamo anche la possibilità di vedere dal centro operativo come vanno le cose perché abbiamo i sistemi di rilevamento sia sui nostri mezzi sia installati sui mezzi dei privati. Su questo insomma dico. Noi ci siamo, poi bisogna vedere quant'è la portata dell'ondata di maltempo e come bisogna affrontarla. Però lei ci anticipava ieri che già da questa sera i mezzi saranno in allerta in giro. In montagna sono già usciti, mi hanno detto. E quindi c'è già la possibilità di far trovare il sale al ghiaccio in modo che così si evita la difficoltà di poter raggiungere i posti di lavoro e ovviamente i luoghi più sensibili. Presidente, grazie di averci accompagnato questa mattina. Allora in bocca al lupo per questo nuovo Consiglio Provinciale che attenderà di dover governare per altri due anni. Poi noi faremo ovviamente il punto anche nei telegiornali su quello che è questa campagna elettorale chiamiamola così un po' anomala dei grandi elettori, dei tecnici, sindaci e amministratori che andranno a votare i consiglieri del nuovo Consiglio Provinciale. Io prima di ringraziarvi per averci seguito vi ricordo l'appuntamento con l'informazione TZ, due edizioni delle 14 e delle 19. Grazie e buon proseguimento di mattinata. Grazie a tutti.